Oggi sorge il sole, mentre ancora dormono tutti, ma questo sole riesce a farlo svegliere di scatto. Ciao ragazzi, come stai? Tutto bene? Io vi devo mettere gli occhiali perché se no non vado da niente. E direi che potrei anche cominciarmi a vestire. E oggi credo di mettere... No, questo no. Non lo so perché, ma non mi convince. Ok, dai sì, questo. Con magari, tra tutti i cerchetti che ho, potrei mettere questo. Qui, ragazzi, ho incominciato a comprare delle cose per Halloween da attaccare alle pareti. Quindi questa zucca, in cui dentro metteremo dei dolcetti, peper Halloween, questo fantasmino, tutte queste piccole cose davvero molto 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 carine. Adesso però andiamo a svegliare la Beatrice. Bea, svegliati! Buongiorno mamma. Buongiorno tesoro mio. Oggi devi andare all'asilo, quindi preparati, vestiti qui. Decentemente. Vuoi questo o un cerchetto? Mamma, oggi vuoi un cerchetto e lo decido io. Allora. Ok, perfetto, così mamma. Questo lo lascio qui. Ok tesoro, va benissimo. Adesso prendiamo lo zainetto. Ok tesoro, questo è il tuo zainetto e nel frattempo è arrivato anche un pacco con il necessario per il mare. Comunque, tornando a noi, in questo zainetto andremo a mettere il tuo peluche, ma non ci entra perché lo zaino è quello piccolo per l'asilo, quindi al massimo lo te lo tieni in braccio a posto. E poi mettiamo un libro con una storiella, così molto semplice. Poi prendiamo l'ipad con anche la penna e il portamangiare, che già comunque qualcosina ce l'hai, ma ti devo aggiungere il succo di frutta. Quindi saliremo al piano 2. Ok, eccoci arrivati al piano 2. Amore, il succo come lo vuoi. Ah, all'arancia mamma. Ok tesoro, allora adesso te lo prendo all'arancia. Ecco qui. Se lo metto qui dentro. E poi lo metto qui dentro ancora. Non ci entra, che bello, già è tutto pieno dall'iPad. Wow. Tesoro, abbiamo capito che questo zaino non va per nulla bene. Quindi adesso tenevo ad comprare un altro, molto velocemente. Ok tesoro, rieccomi. Scusami se è fatto tardi, ma ti ho preso anche un astuccio con qualche penna. Comunque, mettiamo all'interno anche l'iPad. Il portamangiare. Diente, il portamangiare, il tesoro, te lo devi tenere in mano, perché non c'entra neanche qui. Che bello. Eh già, te lo devi tenere in mano e il tuo giochino c'entra pure. Quindi tesoro. In una mano tieni lo zaino, che tanto non pesa molto, e nell'altra ti tieni il portamangiare. E la tua faccia è scompasvanita, però vabbè, dettagli. Adesso tesoro, magari ti bevi questo frappè facendo velocemente colazione, ok? E ti accompagni all'asilo. Ok, perfetto. Andiamo. Ok tesoro, eccoci arrivati. Salve, io sono sempre Asia e lei è sempre Beatrice, solo che comunque è cresciuta un bel po' dall'ultima volta che ci siamo visti. Le sue cose le può appoggiare da qualche parte? Sì, le può mettere in questo scompartimento, queste cose, un po' più così le spostiamo. Le può mettere qui le cose. Ok. Dai tesoro, resta con loro, fai la brava, disegna, gioca, vai nello scivolo, mangia, fai tutto, che la mamma va a lavoro e torna. Allora tesoro, la mamma se n'è andata. Cosa vuoi fare? Vuoi fare il disegnino o vuoi andare nello scivolo? Vuoi andare nello scivolo? Ok tesoro, però metti il ciuccio qui dentro, così non c'è il pericolo che ti cade e si sporca. Dai, io mi siedo qui e tu gioca. E' bellissimo! Brava tesoro, adesso però si è fatta ora di merendina. Quindi, siediti qui tesoro, che gli do il cambio a lei e lei va a giocare. Mentre tu fai merenda. Tesoro, tu stai qui, gioca e a fare merenda ti aiuterò io tesoro mio. Allora, vediamo la mamma cosa ci ha portato oggi. Uh, delle patatine, tieni. Poi ti ha portato, ah vabbè questo è il ciuccio. Poi ti ha portato la pera. E il succhetto di frutta. Buono, vero? Ok, dai, magari ne conserviamo un pochettino per più tardi. Perfetto tesoro, buono? Sì, ma adesso dovrei andare in bagno. Certo tesoro, qui c'è il bagno, mettiti qui e vai. E nel frattempo ti riordino le cose. Ok. Maestra, posso fare tiposino o sonno? Ok tesoro, dove vuoi dormire? Qui abbiamo questi lettini. E questa culletta, più o meno. Vuoi dormire su quello rosso? Ok, dai. Buonanotte tesoro. Tu, piccolo signorino, svegliati. Perché è un giorno che dormi quasi. Quindi svegliati. E facciamo tutti quanti insieme allo scivolo. Guardate, sedetevi. Tutti lì. E poi partite. Avete visto? Sì, che bello. Sì. Di nuovo, di nuovo. Nel frattempo, Beatrice si sveglia, si alza, va nel suo zaino, prende il maialino, il tablet e si mette seduta qui su a giocare col tablet e il maialino. Vabbè dai, io vado a controllare a Beatrice. Beatrice, ma che fai? Ehm, sto giocando. Ehm, sto giocando. Ok, dai. Guarda, vieni, ti faccio un regalo. Siccome tu ancora sei piccolina, metti queste cose qui dentro. Siccome tu ancora sei piccolina e quello zaino è molto pesante per te, ti regaliamo questo qui, che è piccolo piccolo, e ci puoi mettere le cosine dentro. Va bene? Uh, che bello. Vediamo quante cose... Il mio maialino ci entra? Non penso, tesoro. Al massimo lì dentro ci entra un libro con una penna. Però fidati che, tanto, tutte queste cose non ti servono qui. Cioè, non ti servono. Ancora non ti servono, per cui... Questo va abbastanza bene. Tu porta la mamma. Farglielo vedere e poi dimmi... Come gli sembra se te lo porterai, va bene? Ok. Adesso, tesoro... Ci mangiamo una bella fragolina. Bella così. Fesca fresca. La vuoi? Sì, oggi mi va. Tieni, tesoro. E la ripiantiamo di nuovo insieme. E la annaffiamo anche. Giustamente. Così, come per vedere, cresce un bel germoglietto. C'è pure l'altra. Ecco qui. Wow, ma pure io le voglio. E tieni, tesoro. Portatene uno a casa. Con i semini. Ok. Mia mamma sarà contenta, così almeno non le deve comprare lei. Ok, eccomi è arrivata. Ciao tesori. Allora, io gli ho regalato una o più cose. Lei ha voluto regalarti questa piantina con i suoi semini. Vabbè, lo zaino. Io gli ho regalato uno zainetto un po' più piccolo. O il portaverenda. Ok, grazie mille. Arrivederci. Ciao ragazzi. Allora, siamo già salite al piano di sopra. E adesso metto la mia piantina qua. E i semini qui. Poi, allora, il portaverenda lo metto in quello spazzetto lì. Ora io lo metto. Niente non c'entra, per cui lo metteremo lì. È un po' coperto dalla lampada, però vabbè, l'importante è che lo sappiamo noi. Poi, adesso dobbiamo uscire al piano di sotto, perché tutte le cose che dobbiamo uscire sono al piano di sotto. Ok, perfetto. Allora. Allora, allora, allora. Questo, amore mio, lo mettiamo qua dentro. Qui. Perfetto. Questo lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Questo lo mettiamo qui. Poi, il libro è il mio. Quindi, dopo lo usiamo. Le penne e le matite le mettiamo qui dentro. Che, beh, non ci vogliono stare, quindi, questo lo mettiamo qui. E le penne qui. Perfetto. Il libro, c'è lo zaino pure qui. Perfetto, tesoro. Il cerchetto lo rimettiamo qui. Rimetti questo. Il libro lo metto qui. Perfetto. E basta, amore, ti puoi mettere in pigiama. Ok, mamma. Mi metto questo. Mentre io mi metto... Non lo so. Per questo pomeriggio io metto questo qui. Con... Questo cerchetto. Cioè, allora, mi levo questo e lo metto qui. Mi levo questo e lo metto qui. Non ci vuole più stare. Ma che è sta cosa che non ci vuole più stare? Vabbè, tesoro. Tenetelo qua. Poi dopo lo usiamo. Questo lo metto qui. Ok, perfetto, tesoro. Andiamo al piano di sopra. No, mamma. Io voglio rimanere qui a giocare. Ok, tu gioca che io vado sopra a cucinare. E poi, quando è pronto, scendo e ti vengo a prendere. Intanto oggi siamo il 27 settembre. Ok. Allora. Oggi vediamo cosa è un po' cosa cucinare. Mi piacerebbe questo. Allora, la carne ce l'ho. Sì. Ma non ho questo intruio. Per cui vado a comprare molto velocemente. Ok, ragazzi. Ho preso la bambina. Però tesoro, il coso lascialo qui. Tu puoi uscire pure così, tanto non ci fa niente. E andiamo a comprare. Ok, ragazzi. Ho fatto un po' di spesa. Adesso devo capire leggermente come sistemarla. Però per il momento, dato che l'ho messa dentro dei cesti, la adegiamo qui davanti al frigo. E prendiamo solo quello che ci serve. Che era questo intruietto che ho comperato. Potremmo decidere o di farlo con le carote o di farlo con la carne. Però siccome devo cucinare anche per la bambina, scelgo quello con la carne, così che gli possa dare un po' più di proteine. Quindi prendo una. Un attimino, ragazzi, perché qua essendo che ho tutto nelle ceste è tutto molto complicato. E due fette di carne. Le metto in padella. E le faccio cuocere. Poi prendo anche due di questi e le condisco. Ok, ragazzi. A lei gli do il succo di frutta. E io invece mi prendo la Coca-Cola. Perfetto. E questo è il risultato del piatto di oggi. Direi di passare all'assaggio. Lasciamo votare Beatrice. Mamma, per me era delizioso. Quindi un bel nove e mezzo. Ok, lei ha dato un nove e mezzo perché possibilmente a lei non piace tantissimo la carne. Però, dai. È sempre comunque un nove e mezzo da una bambina a cui non piace la carne. Quindi, figuriamoci. Io la costringo a mangiarla perché comunque è un alimento che fa tanto, 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 tanto bene. Ai bambini, soprattutto per una certa età. Però, lei non vuole capirlo. Per cui, io la costringo lo stesso. E non mi interessa. Perfetto. La lavastoviglie ha finito. Riposiamo tutto da dove l'abbiamo preso. I piatti. Io li metto qui su. Quindi un attimo. Ok, ok. Va benissimo. Adesso dovrei riuscire a sistemare questo frigorifero. Questo dannato frigorifero. Ok, ragazzi. Diciamo che per il momento l'ho sistemato così. Adesso qui sistemo le tazze. E qui sistemo questo. Oddio. Ok. Perfettissimo. Qui, come potete vedere, l'ho sistemato. Allora, qui abbiamo questo, che sarebbe per fare alcune ricette. E l'intruglio che abbiamo appena usato. E le fragole. Oddio no. Perché è successa questa cosa? Va bene. Poi qui abbiamo i funghi, che sembrano uno, ma dietro ne hanno molti altri. Guardate. E le carote. Per cui abbiamo i ciuffetti di panna e il guanciale. Poi qui abbiamo i succhi di frutta all'arancia e i brick di latte. E il latte al cacao. Perché purtroppo in commercio ancora non ho trovato i brick di latte al cioccolato. Quindi mi devo accontentare di questo. Dai, li metto. Aiuto. Mi sto impazzendo. E vabbè. Un attimino, perché sennò qua ci potrebbero essere qualche sclero da parte mia. Va bene. Qua sotto andrò a sistemare altra spesa. Che sicuramente dovrò andare a fare. E niente tesoro. Adesso ti porto al piano di sotto. Così puoi giocare alla tua armata PlayStation. Ok tesoro mio. Tu gioca alla Play. Che io saluto i nostri amici. E quindi niente amici. Grazie per esserci stati anche quest'oggi. Lasciate like. Iscrivetevi al canale. E lasciate anche un bel commentino. Se non mi dispiace. Ciao.